Quante novità ci sono in merito al passaggio definitivo di Gela, Piazza Almerina e Niscemi alla città metropolitana di Catania? Perché anche di questo argomento si è parlato durante la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri? Diciamo che Bianco nel suo intervento è stato chiarissimo dinanzi a Renzi, ma soprattutto dinanzi al Del Rio, che è il propugnotore della legge 56-2014, denominato al punto Del Rio. e dinanzi a loro dice che la città metropolitana con l'aggregazione, con l'adesione di Gela, Piazza Almerina e Niscemi e lì hanno interrotto addirittura poi Bianco con gli applausi alle persone perché è scoppiato in tutta la sala l'applauso. Ad applaudire c'era Renzi, c'era Del Rio, c'erano anche i sottosegretari, c'erano anche i parlamentari regionali presenti e c'erano i sindaci, oltre 40 sindaci del città metropolitana di Catania ad applaudire felicemente questa dichiarazione. Ora tocca in definitiva alla politica, quella apprezzamente siciliana, dare e dire la parola definitiva in merito alla vicenda. Diciamo che la politica siciliana sulle modifiche dei confini dell'ex provincia non è stata mai felice, questo lo sappiamo benissimo. Però dobbiamo dire che adesso il problema non è più un problema politico ma un problema giuridico. Se loro non vanno avanti per quello che le loro leggi, non le nostre leggi, le loro leggi hanno chiesto di fare, a quel punto è un problema di costituzione, di rispetto delle scelte democratiche e quindi è un problema costituziale. Se vogliono affrontarlo sotto questo profilo, noi siamo pronti ad affrontarlo sotto questo profilo. Credo che non si arriverà a tutto questo. Abbiamo tre gelesi che hanno un peso importante alla Regione, il Presidente Crocetta e due deputati regionali, Pino Federico e Peppe Arancio. Ci arrivano voci da fonti istituzionali, non che i gelesi stiano lavorando per votare con voto segreto e bocciare in aula queste cose. Noi non vogliamo credere a queste notizie che magari sono messe in giro a posto e vogliamo ricordare ai gelesi che questa è una scelta che non parte da noi ma che è una scelta che ha voluto la popolazione gelese e quindi anche i loro familiari, i loro amici e i loro elettori soprattutto. Chiedo a loro di mantenere la schiena dritta e di portare al caso il risultato che i gelesi hanno chiesto attraverso il referendum e che il Consiglio Comunale per due volte, per due diversi Consigli Comunali è scelto, non ci sono più ostacoli a questo.